La differenza che io trovo tra lei e tutti o quasi tutti gli altri tenori che hanno sentito è questa, che lei tiene leggero il centro, ha sempre tenuto leggero il centro, naturalmente. No, guardi, Cotogni mi diceva, allerta, eh, non caricato i centri, nei centri si canta ma si risolve negli acuti, perché la caratteristica del baritono è il centro, del tenore l'acuto e del basso grave, da voci gravi e per il basso. Quindi il tenore deve cantare nel centro ma non può gonfiare il centro. Ecco, io quello che trovo è che quasi tutti i tenori degli ultimi 30 o 40 anni, da Caruso in poi, hanno cominciato a gonfiare maledettamente i centri con due risultati, uno, anzi diciamo con tre risultati, che nei centri spesso sembrano baritoni, uno. Secondo, che negli acuti si sgozzano, come dico io, si impiccano. Terzo, che questo sforzo che fanno nei centri e che poi si ripercote sugli acuti gli impedisce anche di cantare a mezza voce. Ma naturale, per forza, innanzitutto il canto è alito vibrante, se questo alito, se questo fiato noi lo mandiamo alla cassa armonica, non la mandiamo agli armonici e si canta di petto o si canta con l'addome, che succede? Che la voce non trova la via d'uscita, mentre la voce deve essere tutta passata, fin dal registro basso. Tant'è vero che io mi ero abituato, il cotone dice, attaccate gli acuti e poi scendete giù, con la stessa emissione dell'acuto scendete giù all'ottava bassa e voi troverete il punto d'appoggio. Il mio maestro Cotone, Toto Cotone, voi romani lo sapete, dice, figlio mio, canta nei centri ma risolvi negli acuti, perché il centro è proprio dei baritoni, il basso, il registro basso è dei bassi, ma non indugiate, non ingrossate i centri perché ha aumentato il volume, il volume nelle voci è come il grasso nei corpi, non è muscolo e questa dogma cotoneana io l'ho avuto sempre presente. E l'ho avuto sempre E l ho avuto sempre L'ho avuto sempre Il numero di acuti Il numero di acuti Lo meno di acuti Vien fuciò, sì di fuciò Sì, tu non mi, tu non mi Vien fuciò Sì, tu non mi, 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.